ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di btd6 fps o come vuole chiamarlo il realizzatore scimpanzè contro elio in questa versione 1.5.1 è stato inserita una nuova modalità la tana delle tenebre andiamo a vedere subito come funziona allora abbiamo il principe delle tenebre qui che ci lancia contro zombie palloncini zombie praticamente e l'esploderli ci fa wow amici no no amici no amici no amici no cos'è sta cosa no 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 c'è un modo per aia 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 no 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 allora diciamo che abbiamo 100 vite quindi bisogna riuscire a gestirle tutte quante ma serve 2500 per il prossimo livello ok ok quindi bisogna riuscire a sopravvivere il più possibile e basta cercando di perdere meno vite possibili anche se diventa bruttina 2500 ok 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 87 diciamo che ce la facciamo lo stesso diciamo che ce la facciamo lo stesso vediamo di potenziarci ancora ok ok adesso abbiamo ancora questa staff perché qua non c'è proprio niente da te ne basta posso fargli male a quel coso da no mi sa che non mi sembra che gli riesco a fargli male poi finché sono semplicemente così ok poi quando iniziano ad arrivare tipo gli zombie god e ddt zombie che si fa e vabbè comunque attualmente ce la stiamo già gestendo meglio di prima anche se era abbastanza bruttina devo solo capire quanto costa 5000 ok ok secondo me potrei quasi anche farcela a resistere stando tipo fermo in una posizione ma comunque che gli zombie volino e saltino sopra le cose è veramente veramente un po' bruttina come cosa non bisogna non si può fare così ma tutti e tutti lì che stanno facendo ok siamo a 5000 perfetto non posso far male no vero non ancora 10.000 per la prossima altrimenti spariamo semplicemente più velocemente ok posso colpirti un po' sì allora piano piano gli facciamo danno piano 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 ok spero semplicemente che hanno aspetta quando gli fai più danno ovviamente dopo inizierà ad arrabbiarsi inizierà a buttarti cose ancora più grosse addosso quindi ok comunque direi che sembra fatto abbastanza abbastanza bellino abbastanza bellino come principe delle tenebre non ricordo neanche quanto però se inizio a fogli danno forse gli arrivano un po' più di altri palloncini un po' più grossi e forse ci fa fare un danni un po' più soldi un po' più velocemente ecco questa questa è l'idea vediamo a non riesci a battere questo principe anche a livello zero allora dico sei scarso ok babini comunque è notte si può scappare no no non si può scappare comunque la cosa che saltano queste cose qua è proprio è proprio brutta non mi piace proprio aia mappa piccola quadratosa niente di che escono un sacco di palloncini sempre tempi qua no 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 ok ok ho perso non so la vita babini va bene va bene poi chissà come divetta riusciremo ad avere anche il non so che devo iniziare a ucciderlo lui che inizieremo avere anche magari la fenicia che ci segue con le abilità comunque si è un'altra torre aggiunta al gioco che il mago il mago ci serviva ci serviva era carino poi dopo andiamo a vedere se c'è qualche altra aggiunta oltre a questo livello che c'è il mago probabilmente il mago potrà essere giocabile anche nella mappa solita è 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 ok e basta non c'è più niente ok spara semplicemente un po più velocemente ma niente di che fai più danni e si cura un po forse mi sembrava che stesse o eccoli eccoli mob che arrivano però vabbè adesso siamo potentissimi non è più un grosso problema ma dai principe delle tenebre non ci interessa non ci interessa belli però belli però i modelli degli da my god e tutto quanto però se mi colpisce uno di quelli diciamo che sono abbastanza caccato però non è così difficile ti colpisco attraverso i padroncini dai che muori dai che muori dai che muori dai che muori un altro po' un altro po' manca un pelletto manca un pelletto via 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 è morto ma prince of darkness upgrade path unlocked ok quindi abbiamo sbloccato anche il principe delle tenebre come strada interessante quindi che prima non era sbloccata quindi in questa modalità due notte e notte interessante quindi hanno cambiato quindi nelle classi mago ok perché prima probabilmente non era sbloccata interessante